ciao a tutti oggi prepareremo carciofi patate piselli in umido il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono patate tagliate a spicchi piselli cuori di carciofo tagliata a spicchi aglio olio evo acqua vino bianco sale pepe e prezzepono andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio lo facciamo insaporire per tre minuti 100 gradi anti orario velocità 1 aggiungiamo i piselli le patate le facciamo insaporire per cinque minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungiamo adesso i carciofi il vino ed azioniamo il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft senza misurino aggiungiamo l'acqua il prezzemolo il pepe il sale ed azioniamo il bimbi per 20 minuti 100 gradi anti orario velocità soft i carciofi le patate piselli sono pronte andiamo a impiattare carciofi patate piselli in umido grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti